Lei in ultimo ha ricordato poi il Consiglio d'Europa, che è un altro grandissimo evento che ospiterà la tua città. Sempre a maggio, il 20 all'interno della Reggia ci saranno oltre 30 delegazioni di ministri degli esteri d'Europa e non solo per parlare della crisi ucraina, quindi sicuramente un tavolo importante ospitato all'interno della Reggia che porterà nuovamente veneria su tutti i telegiornali d'Europa e non solo, visto l'importanza dell'argomento, l'attualità del dramma umanitario che si sta vivendo in Ucraina, ci saranno dei disagi sul territorio legati alla viabilità, legati a una piccola zona rossa che verrà creata per motivi di sicurezza, ma ripeto, l'occasione è troppo importante per la nostra città e vogliamo sfruttarla al meglio.